Per la giornata organizzata dalla scuola? Sì, abbiamo fatto in modo che i ragazzi fossero consapevoli di quello che sta accadendo in tutte le parti del mondo oggi, che da un movimento di ragazzi stanno richiamando l'attenzione dei governanti alle problematiche del clima. Non c'è più tanto tempo per portare indietro la situazione ed evitare una catastrofe inimmaginabile. Su questo la scuola può fare tanto? Noi in effetti lavoriamo sui temi della salvaguardia ambientale.